Sconti in bolletta anche per i contadini e per i loro familiari, una sorta di bonus per l'agricoltura, da sempre il settore trainante e l'economia trevigiana. Le loro famiglie risparmiano 60 euro a prezzo attuale, risparmieranno 60 euro gas e luce nel libero mercato. Ricordo che stiamo transitando i nostri clienti verso il libero mercato perché dal 2018 sarà l'unico mercato disponibile. Per quanto riguarda le imprese, 100 euro nella prima bolletta di risparmio e attraverso la consulenza un contratto personalizzato in base alle esigenze dell'azienda agricola in questione. Agevolazione per sostenere e aiutare le aziende alla voce dei costi energetici. È prevista con Coldiretti e le sue 15.000 imprese agricole per un potenziale bacino di clienti domestici che supera quota 50.000. Abbiamo aziende che consumano molta energia soprattutto sul comparto latero caseario dove appunto c'è bisogno di molta energia per quanto riguarda il gas per produrre il formaggio, dell'energia elettrica per le lavorazioni in stalla, al comparto orticolo per l'irrigazione, alle fungaie che naturalmente devono avere un ambiente climatizzato e con umidità sotto controllo pertanto un grosso consumo di energia elettrica e naturalmente tutte le altre attività che riguardano appunto anche nei vari periodi dell'anno dall'irrigazione alla frigoconservazione e quant'altro. Il taglio alle bollette elettriche da oggi fino al prossimo 31 dicembre 2017 esigenza è nata anche dal fatto che come dato sociale sugli oltre 370.000 utenti Ascotrade diverse migliaia a quelli in difficoltà economica che da gennaio ad aprile corrente hanno chiesto la ratizzazione. Però lo vediamo dai numeri, le richieste di ratizzazione nei primi 4 mesi del 2016 sono state di circa 4.000-4.500 ratizzazioni, sensibilmente in crescita rispetto agli anni precedenti.